E' vero, ma che isola è questa? Di un po' che mica capisco più niente, dove mi porti? Ancora non hai capito che isola è? Non ho capito niente, di un po' che isola è? Che non ci ho capito niente. Questa è un'isola ecologica. È un'isola ecologica, è quella dell'altra volta. È un'isola ecologica, le vacanze. Noi le vacanze le facciamo nell'isola ecologica. Ma te le vacanze mi devi portare sempre a talimondizia. Perché noi dobbiamo controllare che la gente faccia bene la raccolta differenziata. Da mercoledì 13 parte allora i riciclati speciali. Sì, torniamo su Fano TV dopo un anno o due con quattro puntate che andranno per quattro mercoledì. Da mercoledì prossimo, mercoledì 13 aprile alle 21 su Fano TV. Che cosa potremmo vedere? Ma sono quattro puntate diciamo di comunicazione ambientale, nel senso che sono fatte in collaborazione con Aset. E quindi noi siamo andati a casa degli utenti a vedere come effettuano la raccolta differenziata. Siamo andati a vedere le isole ecologiche, siamo andati alla discarica. Insomma, tutta una serie di servizi e una puntata di tre quarti d'ora circa, credo. Si potrà imparare anche come effettuare nel modo migliore la raccolta differenziata, però ridendo. Certo, appunto è quella l'intenzione nostra, insegnare, migliorare la raccolta differenziata che già mi dicono sia di un ottimo livello a Fano. Però magari tanti sono indecisi, non sanno dove buttare quello, quell'altro. Noi in queste quattro puntate ogni mercoledì alle 21 spieghiamo anche come effettuare una corretta raccolta differenziata. Guarda cosa abbiamo. Cos'è? Cosa abbiamo? È il tubo della doccia. Ecco, vedete, è un tubo della doccia. Aspetta, questo lo prendo io che mi si è rotta. Ma questo dove si butta? Non lo buttiamo. Nell'alluminio. Non credo, nell'alluminio no. E questo io ho il centro di raccolta differenziata, qui sono vari componenti, c'è la gomma, guarda qua. C'è la gomma, c'è l'alluminio, la plastica, guarda. Ma io però l'ho vista arrivare con Rosa della Cecca che non vedo. Sì, è rosa. Gli altri non ci sono perché stiamo effettuando gli ultimi ritocchi alla puntata, siamo nel momento del montaggio. Rosa della Cecca è qui ma non è presentabile. No, non posso essere presentata perché ho tutte le bucce, le patate, la faccia perché è una cosa bella per tornare a televisione. A proposito, dove ho dovuto adottare tutte le bucce? Brava, le bucce è facile, nell'umido. Le bucce nell'umido. Ah, l'umido? Ma l'umido, le patate sono l'umido, le bucce sono l'umido. L'umido lo mangia, le bucce della patate vanno nel bidone, quello marrone dell'umido. Vabbè, da mercoledì, ogni mercoledì alle 21 vi spieghiamo qualsiasi cosa. Vi aspettiamo. Sono tutti bravi, Arcoio alla Mondezza, tutti bravi.